Siamo tornati quest'anno dopo l'esordio nel 2019 perché Mexpe è una vetrina importantissima per la manifattura italiana, in particolare per la meccanica. Siamo orgogliosi che Mexpe, oltre all'appuntamento di Bologna, abbia previsto l'appuntamento anche a Bari in Puglia. Significa che la manifattura pugliese, barese in particolare, è riconosciuta nel suo valore. Siamo qui perché in questo momento le paure d'ordine per la manifattura italiana sono l'innovazione, la sostenibilità, la competitività. Sono sfide importanti, difficili. Le nostre aziende hanno bisogno di avere un sistema economico intorno che sia efficiente, che le aiuti e che in qualche maniera collabori all'interno di questa sfida nei sistemi industriali. Il nostro sistema industriale è un sistema che ha grandi numeri, grande potenzialità e in questo momento possiamo sviluppare ancora di più le nostre capacità in Italia e in giro per il mondo. Quindi è importante fare rete, scambiarsi esperienze, dare visibilità a questo mondo che non tutti conoscono e questo è un grandissimo gap. Ecco, Mexpe rappresenta per noi questa opportunità. L'associazione Confimi è vicina alle imprese, diamo sostegno alle imprese e soprattutto anche voce. Abbiamo ideato questa Agora Confimi, questa area di sosta conviviale per parlare di più eventi trasversali alle imprese. Parliamo di orientamento, parliamo di formazione, transizione energetica, sostenibilità, tutti temi che sono a corollario del processo di produzione di ogni azienda. Quindi sono eventi che sono trasversali per tutte le PMI che tendono sempre a innovare e grazie all'innovazione hanno una grande possibilità di crescita.